signore e signori benvenuti all'incontro di oggi tra il nostro corso gratuito Grazie. 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 Ci sarà un minuto di recupero. Signore e signori, attenzione, è un annuncio importante. Il papà del bambino che indossa una maglietta gialla è atteso all'area informazioni. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La fluenza di quest'oggi è di 17.440 spettatori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.